Oggi Matteo Salvini, ma l'arrivo a Viterbo dei Big della politica nazionale è solo all'inizio. Poi toccherà Enrico Letta, numero uno del Partito Democratico, quindi è atteso il ritorno anche di Giorgia Meloni, fratelli d'Italia, la campagna elettorale nel capoluogo entra nel vivo. Stasera la scena è per il numero uno della Lega. Salvini è atteso alle 20,30 in Piazza della Repubblica. Un po' più giù rispetto a Piazza del Teatro, dove venne a lanciare la candidatura di Giovanni Arena quattro anni fa. I tempi cambiano e stavolta non farà tandem con la leader FDI Meloni. Già in città per presentare il suo libro, Giorgia Meloni è praticamente certo che ritornerà probabilmente nell'ultima settimana di campagna elettorale. Ma a sostegno di Laura Allegrini, candidata a sindaco per il suo partito. Mentre Salvini lancia Claudio Ubertini, stavolta il centrodestra si presenta diviso ed è stata proprio la numero uno FDI, la volta scorsa a lanciare un ultimo appello affinché si tornasse uniti. Caduto nel vuoto, fuori tempo massimo. Sull'altro fronte, quello del Partito Democratico, a giugno arriverà pure Enrica Letta. Il segretario nazionale verrà a sostenere la candidatura di Alessandra Troncarelli, l'assessora regionale, è quasi scontato che potrà contare anche sull'appoggio del presidente Nicola Zingaretti e magari di qualche ministro o altro rappresentante a livello nazionale. Del resto, la partita che si gioca il prossimo 12 giugno a Viterbo, nel Lazio non solo è di tutto rispetto e diversi occhi sono puntati sul capoluogo della Tuscia per questo è facile immaginare che a questi tre leader, nei venti giorni scarsi che restano, altri se ne aggiungeranno.